Buongiorno, siamo in una semplice cittadina, in un parco pubblico. Andiamo a soccorrerla! La malmetta! La malmetta! E' fantastica! Prendiamo il suore! E' fantastica! La malmetta! Io ho una, io ho una malmetta! Che si stona con la sigaretta! La 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 la! Allora, adesso me la faccio vedere. Ma guarda Marco, questa malmetta è fantastica! Ma guarda, questa malmetta è fantastica! Questa malmetta è fantastica, vero? Fantastica, la malmetta! Mi sono assiuffata, me ne fanno la fila! Desiderate una malmetta che si stona con la sigaretta! Non lo so, mi sono, mi sono, mi sono, mi sono, mi sono, mi sono! Mi è passata con piedi! Vabbè, ma cosa fate voi qua? Niente. Vendo magliette. Una sigaretta. Una sigaretta. E quella là, a faccia che stai mai in giro. E tirate la maglietta che si intona con la sigaretta. Ma le prendo un'altra. No, no, vi prego. Ho una famiglia da mantenere. Devo anch'io a comprare una sigaretta. Vi prego, vi prego. Grazie. 5 euro. Chi è questa? Ma è una sigaretta? No, un nuovo tipo di sigaretta. No. Beh, dai, presentatevi. Come vi chiamate? Caccaa! Lei come si chiama? Luca! Ben nome. Maria Paola. Ok. Lei? Bene. Carina! Lucrezia. Io. Santa. Santa. E lei? E lei vestita di blu? Cacca! Io non c'hai detto! Ah, scusa, non l'avevo capito, eh. A presto. Ora vi saluto. Ciao! 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 Grazie.